Torniamo a parlare di Regione Lombardia, in particolare di riduzione dei costi, perché il gruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, insieme alla lista Maroni Presidente, hanno presentato una proposta di legge per il taglio degli stipendi per quanto riguarda i dirigenti regionali. La Lega Nord oggi, insieme alla lista Maroni Presidente, ha presentato una proposta di legge per ridurre la retribuzione dei dirigenti regionali. Ha detto che non è assolutamente un intervento punitivo. No, questo no, non è un intervento punitivo. Semplicemente, alla luce di quanto è già stato fatto in Veneto, che non ha suscitato grande scalpone, ma mi è sembrato una cosa normale, decidiamo di tagliare la retribuzione dei dirigenti di un 20%, così come ci siamo tagliati alla nostra di politici del 30%. Quindi, insomma, alla fine un segnale deve essere dato anche da parte della struttura. Alla fine noi lavoriamo sulla retribuzione di risultato, che è l'unica vera voce sulla quale possiamo intervenire, poiché per il resto di tutta la retribuzione riguarda il contratto collettivo nazionale. Quindi noi proponiamo per tre anni di eliminare e sospendere questa retribuzione. Così per tre anni avremo 24 milioni di euro a disposizione per poterli utilizzare, soprattutto sul mondo del lavoro, rivolto alle imprese, alle difficoltà in cui versano oggi molti artigiani, molti commercianti, molti imprenditori, che penso che sia in questo momento l'obiettivo più importante e più significativo. Risparmi infatti andranno in un fondo proprio già. Sì, sì, risparmi va in un fondo apposito, già costituito presso Finlombarda, che è la struttura di fatto che aiuta, la finanziaria che aiuta la regione nel sostegno alle imprese, per avere qualche risorsa in più che può essere di prezioso aiuto in questo momento. Coinvolti 501 dirigenti regionali? Sì, sono coinvolti 501 dirigenti regionali per un risparmio che si girerà intorno a 8 milioni di euro, complessivamente arriviamo sui tre anni e 24 milioni di euro, che è una cifra ragguardevole che sarà destinata al sistema economico produttivo, quindi alla micro, alla piccola e alla media impresa. Che vengono intaccate sono le retribuzioni di risultato, che io lo dico sempre, sostanzialmente era un contributo mascherato, una retribuzione mascherata, perché in questo modo si dimostrava che i dirigenti venivano pagati poco e in realtà venivano pagati il doppio, quasi il doppio in alcuni casi, proprio con le retribuzioni di risultato. Quindi bisogna, soprattutto in momenti di crisi, guardare in faccia la realtà ai problemi e allora togliere queste retribuzioni, il risultato è riportare ai reali valori della vita le retribuzioni dei dirigenti, è giusto. Poi in questa regione i dirigenti sono magari anche troppi, perché ci sono troppi generali e poche truppe e bisognerà incidere anche su questo puntando a un rapporto di circa 1 a 15 tra dipendenti e dirigenti. Oggi come oggi siamo intorno a 1 a 10, 1 a 11, che comunque è un dato virtuoso, ma la Lombardia può fare di più perché è la Lombardia. Voi avete puntato di più sulla riduzione dei stipendi piuttosto che sulla riduzione dei dirigenti. Sì, altre regioni, lo dicevamo prima, hanno puntato alla riduzione dei dirigenti, per esempio il Piemonte. In questa regione chi si è guadagnato la qualifica di dirigente, è giusto che sia dirigente, non viene retrocesso, però gli viene applicato un contenimento delle retribuzioni perché è giusto, i sacrifici li fa la classe politica e i sacrifici li deve fare anche l'apparato burocratico amministrativo. Grazie. 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 Grazie.